Napoli deve ripartire dallo sport, dai suoi impianti sportivi, dai valori che l'attività fisica può infondere nei giovani da quello strumento di aggregazione anticriminalità che può salvare migliaia di vite. È l'obiettivo dell'associazione Movimento Partenopeo che nella sede di via Melisurgo ha riunito tutti i vertici di tutte le associazioni sportive regionali per organizzare un piano di recupero sportivo cittadino da presentare anche al prossimo sindaco di Napoli. Lo sport è fondamentale per i ragazzi e per i bambini per educarli alla vita oltre che per il loro benessere psicofisico dopo il covid. La nostra città è dotata di centinaia di strutture sportive pubbliche gestite dal comune di Napoli ma di fatto non utilizzabili dalla cittadinanza, così Riccardo Guarino, presidente di Rinascimento Partenopeo. L'investimento delle università per quello che è stato fatto è stato già qualcosa di molto importante in città, gli impianti non venivano messi a posto da tanto tempo, è un'occasione importante, secondo me non sfruttata fino in fondo, però il problema che noi poniamo è che l'argomento di dibattito è anche quello dell'ordinaria gestione, della manutenzione, dell'affidamento di queste strutture affinché appunto gli sforzi fatti poi dopo non vadano vanificati e queste strutture possono essere fruibili da tutti. Una situazione intollerabile, questo il pensiero di Ivan Simeone, coordinatore della Commissione Sport e Tempo Libero di Rinascimento Partenopeo. Abbiamo invitato al tavolo tutti i presidenti delle singole federazioni di Napoli per confrontarci, per avere delle idee per la competitività, cercheremo di confrontarci con le persone che operano quotidianamente in questo settore per avere dei motivi di confronto, di approfondimento, di capire dove e come poter intervenire.